Grazie a tutti. Se dice Caraglio, tu nome, tu apellido. Claro, Caraglio, Milton Caraglio. Perché sei in Italia? No, c'era una proposta, la verdad è che si è stato un anno molto positivo in Chile. Mi ha fatto molto bene, grazie a Dio. E, beh, c'è un gruppo interessato, Pescara, Catania, che vogliono che io sia in loro, quindi siamo qui. Tu fuori molto vicino a Catania hace due anni, giusto? Sì, nel 2010, nel 2010 estuve in Catania. Bueno, desgraciadamente non mi pude quedar, però qua stiamo ancora, quindi con la cabeça alta e molto contento. E hai alcune preferenze tra Catania e Pescara? No, 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 la verdad è che devi sentarsi e parlare con ogni squadra, qualcuno vuole, e, beh, poi, decidere lo meglio e lo meglio per la mia famiglia. E quando si decide il tuo futuro? Io credo che in questi giorni non può passare più, la verità è che, beh, già ho voglia di essere allenato in un gruppo, e, beh, spero che sia tutto bene. È vero che i tui origini sono da Pescara, no? Sì, da una città molto vicino, da Chieti. Però, beh, stavo in Pescara, è una città molto linda, molto hermosa, e in Catania anche, no? La verità è che sono due città molto lindate. Parliamo delle vostre caratteristiche nel campo. No, io sono un 9 bene di area, un punto ben definito, con un buon cabello. Però, beh, lo importante è che in un gruppo che questo possa convertire e che mi vanno in la miglior forma. In Italia, non in Italia, in Cile, si dice che ti chiamano Gordito. Perché? Sì, sì, la verità è che, sempre, no? La verità è che uno mi ve in televisione e parezco un giocatore gordo, però voi me vedi aca... Non pareceste gordo, eh? No, no, io sto bene, mi sento bene fisicamente, così, che buono, dopo che mi vedo direttamente se dà cuenta di come sto fisicamente, e si tratta le domande. Grazie. 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 Grazie.